Un uomo di 50 anni e una donna di 41, entrambi nigeriani, sono stati condannati dal Tribunale di Firenze rispettivamente a 18 anni e 6 mesi e a 16 anni e 9 mesi di reclusione con le accuse di tratta di esseri umani, riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione. Per l'accusa, tra settembre 2016 e luglio 2017, i due avrebbero fatto arrivare in Italia almeno 5 ragazze nigeriane, di cui due minorenni, che sarebbero state alloggiate nella loro casa di Prato e costrette a prostituirsi in strada, picchiate e violentate. In alcuni casi, le giovani sarebbero state minacciate di subire riti voodoo e di violenze che sarebbero state inflitte anche alle loro famiglie rimaste in Nigeria. Le vittime, secondo quanto ricostruito dalle indagini che hanno portato al processo, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, sarebbero anche state coinvolte loro malgrado in traffici di droga e costretti a fare da corrieri per consegnare la cocaina. Le ragazze, convinte a trasferirsi in Italia dietro alla promessa di un lavoro, dovevano poi prostituirsi a Prato, Firenze e Calenzano per restituire il denaro, circa 30.000 euro, che i due sostenevano di aver speso per il loro viaggio. In alcuni casi, se non riuscivano a portare a casa abbastanza denaro, le giovani venivano picchiate con violenza fino a farle svenire, un modo per dimostrare che nessuno poteva più sottrarsi alla volontà della coppia. L'accusa contestava al cinquantenne anche un presunto stupro di gruppo nei confronti di una delle ragazze, accusa dalla quale è stato assolto per non aver commesso il fatto, insieme a un altro imputato suo connazionale.